Quello che sto per dirvi non deve uscire da qui. Sapete chi è Vicente Cortez? Sì, è uno dei maggiori boss del cartello. È conosciuto come la banca di Bogotà. L'offre dindi, il fresta dindi, il lavadindi, il ciopo, bracciola di maiale... Ok, ok, ok. Domani mattina scorterai la testimonia Dallas perché deponga contro Cortez. Signora Riva, dobbiamo andare. Ma guarda, ti secco sei minutina, sembri un cagnolino da mettere in borsa. Però Cortez ha ucciso tutti i testimoni che avevamo. Lei è in pericolo, signora. Ma andrà tutto bene. E riguardo mio marito... A parte il suo marito andrà tutto bene. Non devo piacerle, ma solo io posso aiutarla a sopravvivere. Che diavolo è quella roba bianca? Lievito in polvere. Io chiamo la polizia. No, sono io la cavolo di polizia, non vede, può andare. Ma ho distrutto la vostra auto. Ho detto che può andare! L'incidente mi ha innervosita un po'. Ci hanno teso una trappola. Ci hanno sparato. E braccato. La jet recuper è alta circa un metro e cinquanta. Ma che no? L'altra sospetta sui quarantacinque anni latina... Quarantacinque? Ai madre! Dobbiamo nasconderci per un paio d'ore. Allora, puoi aiutarci? Il tuo sorriso mi piace. Non sai proprio niente di me. Ho visto la tua biancheria. Le voglio copretti! Non sono mutande, è un panolino. Io so tutto quello che c'è da sapere. Hanno provato a sedurmi con quella roba da lesbiche. Sono la sua amante. Ma sono cristiano, quindi non sono interessato a quelle cose. Bene! Oh mio Dio! Bene! Vado a... L'agente Cooper alta circa un metro e quarantacinque... Uno e sessanta quasi! Viaggia con un'altra sospetta sui cinquant'anni. Cinquanta! Trovatene subito. Dobbiamo scappare o ci uccideranno entrambe. Reggimi il gioco! La signora arriva a sta per avere uno di quei problemi femminili. Non riesce a tenersi. No, vede? Una volta al mese il mio utero si sfalda all'interno... Così che gli ovuli scendano quindi nel mio... Oh mio Dio! Muero de canas de verte entre rejas. Tu parli spagnolo. Cagliate tu bocca! Gringa, chiquitic! Bocca mui gorda! Simplona! Benvenuti! L'instancabile Woody Allen ha già pronto un nuovo film. Non ci sono ancora dettagli sul titolo e sulla storia del film. L'unica cosa certa è che nel cast ci saranno Kristen Stewart, Bruce Willis e Jesse Eisenberg. Per Eisenberg questa è la seconda collaborazione con Allen dopo To Run With Love. Per la Stewart e Willis invece è il primo film con il grande regista. Quest'estate negli USA uscirà il prossimo film di Woody Allen, Irrational Man, con Joaquin Phoenix e Emma Stone. Aspettiamo ancora la data d'uscita italiana e io vi terrò aggiornati. E intanto scaricate la nostra app. A presto!